Uno studente su tre, tra i 13 e i 15 anni, ha vissuto esperienze di bullismo. È la fotografia scattata nel mondo dall'Unicef sul fenomeno, questione che interessa anche il territorio della provincia di Pistoia, dove, presso la prefettura, istituzioni, enti locali e forze dell'ordine hanno rinnovato uno specifico protocollo d'intesa, un patto per contrastare e soprattutto prevenire questi fenomeni che, nella declinazione legata ad Internet e alle nuove tecnologie, nei paesi più industrializzati, tocca percentuali tra i minorenni che arrivano anche al 20%. È molto importante lavorare sulle giovani in generazione. Abbiamo capito che la fascia d'età più interessata dal fenomeno, tutti i giovani sicuramente, però sono quelli dalla terza media, diciamo, della scuola, quella terza media di una volta, al biegno del superiore. Infatti abbiamo già in cantiere due nuove iniziative che saranno rivolte proprio a questa fascia di età. Il primo partner in questo processo, la scuola e con essa, è stato sottolineato dal prefetto di Pistoia, Messina, la famiglia. E noi crediamo che sia molto importante lavorare sui giovani, ma non si può prescindere dal coinvolgimento della scuola e delle famiglie, perché sono loro che hanno la consegna e il ruolo importantissimo dell'educazione e della crescita secondo principi sani e civili dei giovani.